ben trovati benvenuti a questo terzo e ultimo pannello di questo piccolo trittico che ho voluto dedicare a questo libro di Oliver Sacks, Unicosa al suo posto, e parlavamo di ortofilia, cioè del bisogno, della necessità di interagire con la natura, ma questo bisogno e questa necessità ripensati, anche alla luce di tutto quello che sta accadendo. Quando leggiamo un libro, soprattutto a distanza di tempo, ma anche subito, appena ottimata la lettura, cerchiamo sempre, c'è un'immagine o un paio di immagini che diventano, come dire, il distillato, il residuo che poi fa da porta di ingresso alla memoria di quel libro, di quello che abbiamo letto, di quello che ci è piaciuto. Ecco, volevo consegnarvi due bellissime immagini, secondo me, contenute in questo libro di Oliver Sacks, come forma così anche di saluto in questo appuntamento. La prima è ancora un'immagine della natura, un'immagine della natura lirica anche, molto lirica, ma molto, come dire, sempre densa di significato da interpretare e sul quale riflettere. Oggi, è il 13 novembre, a New York le foglie stanno cadendo, svolazzano e si depositano dappertutto. C'è però una notevole eccezione, le foglie a ventaglio del ginko, sono ancora saldamente attaccate ai loro rami, anche se molte di esse sono diventate di un luminoso color oro. Si capisce perché questo splendido albero sia stato venerato fin dai tempi antichi, conservati per millenni con cura nei giardini dei tempi cinesi, i ginko sono quasi estinti allo stato selvatico, ma hanno una straordinaria capacità di sopravvivere al calore, alle nevicate, agli uragani, agli scarichi dei diesel e alle altre piacevolezze di New York. Ecco, l'oggetto è il ginko, quest'albero bellissimo che in autunno appunto diventa color oro e ci piace tanto, è un'immagine estetica, ma è la particolarità scientifica del ginko, il fatto che ha una specificità. Mentre le foglie delle angiosperme più moderne, aceri, querce, faggi, quello che preferite, cadono nell'arco di qualche settimana, una volta seccate e diventate marroni, nel ginko, una gimnosperma, cadono tutte in una volta. Ecco qual è la magia, diciamo, il fascino di questa pianta, il fatto che le foglie cadono tutte in una volta. I ginko rispondono forse a qualche segnale esterno, come un cambiamento di temperatura o di luce, oppure a qualche segnale interno geneticamente programmato? Nessuno sa che cosa ci sia dietro a questa loro sincronia, che tuttavia è di certo legata all'antichità della specie, evoluta lungo una via molto diversa da quella degli alberi più moderni? Allora, sarà il 20, il 25 o il 30 novembre? Quale che sia il giorno, ogni albero avrà la sua personale notte del ginko. Poche persone vi assisteranno, la maggior parte di noi starà dormendo, ma la mattina dopo il terreno sotto l'albero sarà coperto da un tappeto di migliaia di ventagli spessi e dorati. Ecco, un'immagine bellissima, ma il significato è molto chiaro, no? Laddove persiste ancora un mistero, qualcosa che nessun algoritmo è ancora riuscito a decodificare, a interpretare, a prevedere, è bellissimo restare incantati di fronte alla bellezza, al mistero della natura senza pensare che sarebbe più bello se si indovinasse qual è il momento esatto per togliere, no? Per pensare a una forma di dominio sulla natura. Godiamoci la natura per quello che è. E ci sono tre immagini del mondo della natura, quello che si può guardare, non solo a occhio nudo, che volevo condividere con voi in questo momento. Qui sono immagini che condivido mie, non mie, diciamo immagini non di Oliver Sacks che vorrei condividere con voi. Sono tre immagini che disegnano un arco che va dal micro al macro e anche tre movimenti dello sguardo, no? Verso il basso, frontale e verso l'alto, un gesto che gli antichi facevano molto più spesso di noi, con altri, con un bel carico di significati, verso appunto, pensate, il cielo stellato, le interpretazioni, no? Questa venerazione anche per l'universo. Allora, veniamo alle tre immagini che vorrei proprio darvi in questo appuntamento. La prima, che mi ha colpito moltissimo, è l'acqua dei canali di Venezia, che dopo questa stasi è diventata trasparente come non si vedeva da anni e adesso si possono vedere i pesci nuotare nei canali di Venezia. Questo è qualcosa veramente di miracoloso, insomma, per chi conosce invece lo stato in cui, insomma, versavano i canali di Venezia fino a un paio di mesi fa. L'altra, invece, è il fatto che la catena dell'Himalaya è diventata nuovamente visibile dall'India dopo 30 anni. Per 30 anni non era più visibile la catena dell'Himalaya dall'India a causa di cosa? Dell'inquinamento. E la terza immagine che mi ha colpito moltissimo è che il famigerato buco dell'ozono si sta richiudendo. Quindi pensate, non si è parlato di riscatto, di rivincita della natura, secondo me non è tanto questo. Secondo me è proprio quanto la natura aveva bisogno che l'attività dell'uomo si fermasse per poter, insomma, riconquistare un minimo del suo statuto. E da ultimo, dopo aver parlato della malattia, il rapporto con il corpo dell'uomo, dopo aver parlato di natura, di esigenza, di verde, delle piante, un accenno al rapporto con gli animali. Un accenno al rapporto con gli animali che riguarda un brevissimo pezzo che si trova in questo libro, che vorrei leggervi per congedarmi da voi, proprio anche da lasciarvi come saluto, spero temporaneo. Si tratta ancora una volta, come dire, di un'esperienza, del racconto di un'esperienza. Questo è molto importante, non di una considerazione teorica e concettuale slegata dall'esperienza. Una di quelle esperienze che hanno qualcosa di magico, di straordinario e che sembrano poter capitare solo a degli uomini speciali perché poi loro possano in qualche modo raccontarcela e tramandarcela. Non è tanto il rapporto, l'ennesimo rapporto in cui l'uomo antropomorfizza l'animale, ma è invece un'esperienza, secondo me, molto interessante e del contrario. È l'uomo che cerca di riavvicinarsi, diciamo, a un elemento della natura che comunque fa parte anche della natura umana e di cui molti sembrano essersi dimenticati. Si chiama Lorango. Alcuni anni fa, mentre ero in visita allo zoo di Toronto, vidi una femmina di Orango che allattava un neonato. Ma, quando premetti la mia faccia barbuta contro il vetro che delimitava il suo grande spazio erboso, lei depose delicatamente il piccolo e si accostò alla vetrata premendo la faccia e il naso di fronte ai miei dall'altra parte della lastra. Mentre guardavo la sua faccia, credo che i miei occhi si stessero muovendo, comunque ero molto più consapevole dei suoi. Con i suoi piccoli occhi luminosi, erano anch'essi color ambra, che si posavano qua e là veloci, osservava il mio naso, il mio mento, tutti i tratti umani, ma anche scimmieschi della mia faccia, identificandomi, non potei evitare questa sensazione, come un essere suo simile o perlomeno molto affine. Poi mi fissò e io fissai lei, come amanti che si guardino negli occhi, separati soltanto dalla vetrata. Misi la mano sinistra sulla lastra e lei immediatamente ci appoggiò sopra la sua destra. La loro somiglianza era ovvia, evidente a entrambi. Lo trovai sorprendente, meraviglioso. Mi diede una sensazione di affinità e vicinanza intensa, come non l'avevo mai provata con nessun altro animale. Guarda, diceva il suo gesto, la mia mano è proprio come la tua. E però era anche un saluto, come stringersi la mano o darsi un cinque. Poi entrambi staccammo la faccia dal vetro e lei tornò al suo piccolo. Ho avuto e amato cani e altri animali, ma non ho mai provato un riconoscimento reciproco così istantaneo e un senso di affinità come quelli che provai con quel mio collega primate. Un saluto a tutti e un arrivederci e spero a molto presto. Grazie. 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 Grazie.